Blitz antidroga a Catania, dove oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati delle province di Catania e Reggio Calabria, sono stati impegnati nell'operazione Non Solo Pane, che ha visto il militare eseguire un'ordinanza di custodia cautelaria messa dal Gip Etneo, carico di 9 persone, di cui 8 in carcere e 1 ai domiciliari, accusata a vario titolo di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. L'indagine, coordinata dalla Procura Distrettore di Catania e condotta dai carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, supportati dai colleghi di Reggio Calabria, ha consentito di individuare una fiorente attività di smercio al dettaglio di cocaina, realizzata dagli indagati sia autonomamente che in concorso tra loro nella città di Catania e in diversi comuni della cintura metropolitana. In particolare sarebbero state ricostruite le diverse modalità di cessione della droga, che avveniva sia in maniera itinerante, con gli ordini stabiliti telefonicamente consegnati o addirittura lasciati in luoghi concordati, un vero e proprio takeaway, sia presso le abitazioni dei pusher, dove si realizzava la compravendita e la consumazione dello stupefacente, tutte cautele messe in atto per evitare di finire nelle maglie delle forze dell'ordine. Particolare al riguardo, la condotta di uno degli spacciatori che, essendo un panettiere, avrebbe utilizzato il suo forno quale copertura e base logistica per l'attività illecita, soddisfacendo le esigenze degli acquirenti che avrebbero chiesto di ritirare di volta in volta mezzo chilo di pane o mezza pagnotta, tutte forme criptiche per celare il reale riferimento alla cocaina. Contestualmente i militari hanno seguito anche diverse perquisizioni domiciliari, con il supporto dell'unità cinofile antidroga, al fine di sequestrare eventuale ulteriore sostanza stupefacente.